Oggi vi parliamo di Antonio Corpora, artista scomparso nel 2004, nato a Tunisi, ma vissuto prevalentemente in Italia, uno dei maestri dell'informale, noto soprattutto negli ultimi anni della sua carriera per i tanti e numerosi acquerelli che troviamo sul mercato. In questa puntata però daremo attenzione alle opere su tela che ha realizzato dalla fine, dalla metà degli anni 40 fino agli anni 60, per un motivo molto preciso, perché sono le opere che hanno determinato il passaggio tra una sorta di figurativo che lui faceva fino appunto agli anni 60, a quello che poi è stato la sua vera e propria esplosione, quello che l'ha reso famoso, ovvero l'arte informale. Vediamo delle aggiudicazioni. Per quanto riguarda le aggiudicazioni, vediamo che gli importi più importanti si sono ottenuti oltre dieci anni fa. Questo dipende dal fatto che non si trovano molte opere del periodo, quindi 45-60, quindi dagli anni 45 fino al 60 non si trovano molte opere sul mercato, per cui è molto difficile trovare nelle aste internazionali opere, nelle aste internazionali recenti opere di quel periodo. Tant'è vero che il top lot resiste dal 2007 e così via anche le altre, vedete 2006-2007. Quello che voglio farvi vedere è una delle opere, una sorta di figurativo, vedete questa è un'opera del 1947, dove si intuisce ancora la figurazione. Man mano col passare degli anni, ancora siamo a livello figurativo, si comincia ancora, si intravede qualcosa di figurativo, ma si comincia a intravedere già l'informale, fino ad arrivare alle opere poi oggetto della trasmissione, che come vedete sono assolutamente informali, qui ormai la figura non è più visibile. Di queste opere, come dicevo prima, non se ne trovano tantissime sul mercato, per cui sono molto rare e quindi anche molto ambite. Per quanto riguarda l'andamento dei coefficienti medi nelle aste internazionali negli ultimi anni, abbiamo questa situazione. Come potete notare, fino al 2009-2010 c'erano delle aggiudicazioni molto più importanti, ma questo era sempre dovuto al fatto che in quegli anni ancora si trovavano opere, opere di qualità e quindi c'erano anche diversi concorrenti che tentavano di aggiudicarle. Poi man mano, dal 2009 fino ad arrivare a oggi, anche la qualità delle opere è andata man mano in decadenza, proprio sempre per il fatto che non ce ne sono tantissime e quindi anche i coefficienti medi sono scesi. Questo non vuol dire che le opere di Antonio Corpo di quel periodo non valgono o sono in discesa, vuol dire semplicemente che bisogna trovare quella giusta, degli anni giusti al prezzo giusto, sembra banale ma poi effettivamente è così. Ultimamente una delle ultime opere aggiudicate è nel 2017, aggiudicata a circa 32 mila euro, quindi come vedete parliamo ancora di somme importanti, parliamo di un'opera del genere del 1958, quindi dove si dovessero trovare opere di questo periodo i collezionisti farebbero molto bene a metterle in collezione. Quindi quest'opera giudicata a circa 32 mila euro nel 2017 avvalora la tesi che c'è ancora tanta attenzione su queste opere, in l'importante è che i collezionisti siano attenti su ciò che viene proposto e fanno bene a metterle in collezione per cui possiamo tranquillamente affermare che le opere sul tela di Antonio Corpo sono da mettere nella propria collezione.